buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale nel brevissimo video di oggi andremo a vedere come acquistare un token tramite meta mask su pancake swap non fate caso a cosa comprerò ma prestate attenzione ai passaggi che farò andiamo a vedere come acquistare su pancake swap dopo la sigla detto poco fa non fate attenzione al token che vado ad acquistare ma guardate bene i passaggi che faccio per impararli anche voi allora per operare su pancake swap e per acquistare un toque al suo interno dobbiamo passare prima dalla baina smart chain e collegarla al wallet di meta mask vi salterò il passaggio di collegamento tramite masche baina smart chain perché ho già fatto due video al riguardo vi lascerò insomma impressione e nei commenti il video da poter andare a visionare supponiamo che voi abbiate già collegato meta masca la baina smart chain cosa dobbiamo fare innanzitutto andare su baina se acquistare bnb quindi ci colleghiamo a bainas andiamo ad acquistare o con bonifico bancario o con carta di credito debito io per farvi vedere vado su carta di credito che almeno è più veloce clicco l'importo che voglio utilizzare per questo per questo acquisto in questo caso io voglio fare solo un video dimostrativo quindi comprerò il minimo 20 euro vado a selezionare bnb doll ok ok la transazione è andata a buon fine e tra poco vedrò i miei bnb accreditati sul wallet a questo punto clicchiamo su go to wallet andiamo a vedere i 20 euro di bnb e dobbiamo andare a trasferirli su meta mask allora clicchiamo in alto a destra sull'estensione di meta mask mettiamo la password andiamo a sbloccare il nostro portafoglio e normalmente appena aprite il portafoglio di meta mask vi porterà sulla rete e rc 20 quindi sulla rete tirion voi cosa dovete fare dovete andare in alto fare lo swap e selezionare baina smart chain che avete impostato precedentemente una volta che avete girato su baina smart chain cliccate alla voce account copia negli appunti e andrete a copiare il vostro address a questo punto lo avete copiato tornate su bain ans andate su prelievo selezionate la valuta in questo caso by nascone andate a incollare l'indirizzo che avete copiato prima mi raccomando selezionate la bsc by na smart chain selezionate il quantitativo di bnb che volete inviare in questo caso invio il massimo clicco invio vado a completare i sistemi di verifica perfetto la richiesta di prelievo è stata inviata non mi resta che aspettare l'arrivo dei miei bnb su meta basket e vi faccio vedere come andare acquistare su pancake swap ok a questo punto sono arrivate il mio bnb su meta mask vi faccio vedere come acquistare in questo caso fox finance ma vi ripeto non andate a copiare l'acquisto dalla cripto valuta del ton che vi sto facendo vedere perché magari non è neanche un progetto come si deve ma focalizzatevi solo sui sul procedimento ci sono due modi per acquistare un tocchi su un pacchetto su app o conoscere direttamente il token che vogliamo acquistare e fare un passaggio direttamente tramite il sito di pancake swap oppure a seconda dei progetti la maggior parte dei progetti che stanno nascendo hanno l'accesso diretto sul loro sito ufficiale come in questo caso fox finance se noi in alto a destra andiamo su buy fox ci porterà direttamente su pancake swap andiamo a cliccare continua in alto a destra qua vedete che si è collegato direttamente il mio meta masche ma faccio la prova contraria allora entriamo su pancake swap come se non avessi collegato ancora meta masch cosa faccio in alto a destra appare la voce connetto quindi io clicco connetto meta masch è in automatico vedete ha ripreso il mio wallet e qua vedono e qua si visualizza il mio balance di bnb come vedete cliccando direttamente dal sito ufficiale in automatico viene la coppia bnb fox ma io poi al suo interno potrei anche andare a prendere qualcos'altro eventualmente quindi appurato che la coppia è questa vado su queste impostazioni e tramite il sito internet ufficiale bisogna settare bisogna andare a leggere quanto è lo slip page lo slip page tra il 13 e 15 per cento se noi non settiamo questa percentuale l'ordine non andrà a buon fine quindi torniamo sul pancake swap qua in alto a destra vicino alla parola exchange clicchiamo su queste impostazioni mettiamo ad esempio il 13 per cento come richiesto torniamo indietro selezioniamo l'importo massimo quasi page tolerance e viene fuori 13 per cento quindi la memorizzato clicchiamo su swap abbiamo il resoconto come avete visto ha dato un errore perché avevamo selezionato il 13 per cento e quindi mettiamo il massimo mettiamo il 15 per cento ok impostiamo 15 per cento torniamo indietro in questo caso da 13 siamo passati al 15 per cento clicchiamo su app diamo la conferma tramite la firma dello smart contract è perfetto noi abbiamo acquistato adesso i token fox ora dobbiamo andare a registrare su meta mask clicchiamo in alto sulla nostra estensione andiamo su attività vediamo il nostro ultimo swap che quindi è stato quello di fox in alto a destra andiamo a vedere su bsc scan arrivati a questa pagina cosa facciamo andiamo a scrivere in alto a destra sul motore di ricerca fox e andiamo a cercarlo eccolo qui fox token clicchiamo su fox e andiamo a copiare l'indirizzo del contratto ritorniamo su meta mask andiamo su patrimonio aggiungi token token personalizzato andiamo a incollare il contratto che abbiamo copiato poco fa vedete una volta copiato il contratto mi appare la voce fox e 9 decimali io clicco avanti aggiungi token e subito mi appaiono i token fox co acquistato su pancake su app quindi avete visto pochi secondi e si fa praticamente lo swap del token adesso però supponiamo che il token abbia avuto un pump e vogliamo andare a venderlo per venderlo andiamo a fare l'operazione contraria ci troviamo torniamo su pancake swap clicchiamo sulla freccettina quindi vedete in alto adesso al balance di fox e sotto bnb andiamo a selezionare il quantitativo in questo caso quantitativo massimo clicchiamo su approva fox sto riprovando a mettere lo slip page del 13 per cento vediamo se mi approva la transazione se lo rimodifichiamo a 15 andiamo di nuovo a completare la firma del contratto attendiamo il risultato perfetto facciamo lo swap ok errore quindi dobbiamo andare a settare 15 per cento torniamo indietro andiamo in alto 15 per cento e di slip page e proviamo lo swap in questo modo perfetto è andato a buon fine quindi adesso noi abbiamo convertito il nostro token fox in bnb ora non dobbiamo far altro che inviare i nostri bnb a buy nas per lasciarli in bnb convertirli in un alta cripto valuta non altro token oppure venderli in euro ci spostiamo nuovamente su buy nas wallet noi dobbiamo fare un deposito quindi andiamo a cliccare su deposita selezioniamo la nostra cripto valuta bnb andiamo a selezionare bsc buy nas smart chain mi raccomando usate questa rete coppiamo l'indirizzo apriamo meta mask selezioniamo la valuta che vogliamo spostare invia andiamo a incollare il wallet selezioniamo l'importo facciamo avanti confermiamo attendiamo l'invio del della nostra cripto valuta e tra poco la rivedremo su buy nas torniamo su buy nas aggiorniamo la pagina e vediamo deposito avvenuto quindi sono andato a trasferire i miei bnb da pancake swap a buy nas siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro appuntamento spero che il video sia stato utile di vostro gradimento mi raccomando iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto commentati i miei video lasciatemi un like che è veramente una cosa utile per farmi indicizzare su youtube per aiutarmi a farmi conoscere e se avete il piacere unitevi alla nostra community telegram a domani